Buongiorno, sono Gianpaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento questa splendida Nissan Qashqai N-Connecta 1.5 DCI 110 CV Euro 6B dell'anno 2016. Vettura unico proprietario con 102.000 km percorsi. Veramente full optional, abbiamo una bellissima vernice metallizzata nera, vetri posteriori oscurati, mancorrenti cromati, cornici vetri cromate, ruote diamantate bicolore da 18 pollici, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamere 360 gradi, specchi ripiegabili elettricamente, assistenti alla guida. Infatti abbiamo sia la frenata assistita che l'ausilio al rispetto della linea. I sedili sono in stoffa, con formazione sportiva, volante sportivo multifunzione con cruise control. Ecco, 103.000 km percorsi, climatizzatore automatico bizona, cambio meccanico a 6 rapporti. Intendiamo che si accenda il sistema. Ecco il navigatore, la mappa e vi faccio vedere, mettendo la retromarcia, si attivano le telecamere. Naturalmente questo veicolo è dotato anche di viva voce bluetooth, specchio auto un abbagliante. Come vi ho detto, ecco il tetto panoramico con tendina oscurabile. La vettura è disponibile in pronta consegna, la vendiamo con garanzia 12 mesi legale di conformità. Vi aspetto a Gussago presso il nostro autosalone Pasolini Auto per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla. Grazie.